Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un glitch per salvare tutti gli outfit degli ultimi colpi del Domus Day che sono stati rilasciati da Rockstar Alcuni di voi non lo sapevano quindi ho voluto portare questo glitch anche se è già diffusissimo Allora per salvare questi completi bisogna avviare o un colpo Domus Day oppure unirsi a un colpo Domus Day tramite il telefono magari se non siamo amici ci uniamo ad un colpo e con la speranza insomma di trovare questo cazzo dei colpi Domus Day Quindi ci uniamo ad un colpo e aspettiamo ragazzi Dobbiamo semplicemente aspettare una volta che ci siamo uniti che carichi ovviamente la partita Quindi andiamo ad unirci E vediamo che cosa Diciamo che cosa esce fuori insomma Allora Vi posso garantire che quando entrerete in un colpo e poi uscirete le persone che stanno facendo il colpo non saranno molto contente Però a noi serve questo per fare il glitch Quindi a questo punto questo sarà il completo che io andrò a salvare Ovviamente voi nella schermata dei settaggi in base al colpo che avete o che volete fare E andrete a salvare l'outfit che volete Come ad esempio non so quello da parametrico Insomma ce ne sono svariati Quindi con questo metodo potete salvarli tutti E potete poi modificarli a vostro piacimento Questo metodo si usa anche per prendere i jogger grigi per esempio O altri tipi di jogger Quindi a questo punto Passiamo al vero e proprio metodo Una volta che si è avviata la missione ragazzi Che siete in strada Ovviamente sarete in culo al mondo Poi sicuramente vi capiterà il più sfigato Che avrà comprato la base operativa in culo al mondo Quindi vi toccherà tornare in città O in un punto dove potrete salvare il vostro outfit Quindi dovete tornare nel vostro appartamento E una volta che sarete tornati nel vostro appartamento Basterà cambiare semplicemente una parte di questo outfit Per poterlo rendere nostro Quindi andiamo nel guardarobba E mettiamo un accessorio Un accessorio qualunque Per poter salvare l'outfit Quindi Io a questo punto metterò una maschera Come avete visto anche in qualche altro mio video Io su questo outfit Ho una maschera da cane Questo video l'avevo girato già da un po' Vi posso garantire che funziona Come dicevo l'avevo girato già da un po' Però non l'ho portato Perché ho detto vabbè l'hanno portato in tanti Ho detto e cazzo mi metto lì a portarlo A fare o che Però ho visto che qualcuno sul canale Ancora mi ha chiesto come Diciamo salvare questi outfit E ho Mi sono ricordato che avevo girato questo video Che comunque non l'avevo pubblicato E alla fine ve l'ho portato Ragazzi ve lo pubblico Ve lo porto insomma Quindi ragazzi come ho detto Mettete una maschera Un occhiale Quello che cazzo volete Aspettate Che il Diciamo Vi appaia il caricamento Del salvataggio Comunque non è necessario Che vi appaia il caricamento Ed uscite dall'attività ragazzi Come sto facendo io Vi ritroverete in sessione pubblica Con il vostro outfit E l'unica cosa che dovete fare E andarlo a salvare In un appartamento O nel negozio di abbigliamento E da lì in poi potrete Cambiare tutto quello che volete Di questo outfit ragazzi Adesso lo andiamo a salvare Questo passaggio fatelo Perché altrimenti Non so potreste pure rischiare Di Di non salvare l'outfit Nel senso di non Di non averlo più E Quindi vi consiglio di fare questo passaggio Cioè ci vuole poco ragazzi Alla fine Tornare nell'appartamento E salvare il vostro Il vostro vestito Insomma E niente Detto questo Poi potete modificarlo come volete Potete togliere Non so Sisticali del cazzo E mettere Una scarpa da ginnastica Anzi Una ginnetta da scarpastica Ragazzi Una battuta insana Comunque dicevo Potete mettere una scarpetta O comunque potete Modificare anche la parte Superiore Come ho fatto anche in un altro video Ho fatto vedere E quindi Detto questo ragazzi Il video finisce qui Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Mi voz è crazy in the hood They holla my name Al prossimo video